Benvenuti nella Galassia Rattics, vi presento. Citroen Berlingo Multispace in allestimento Phil. La monovolume perfetta per le vostre esigenze. Questa Citroen usata è in ottime condizioni. Pronta a garantirvi comfort e spazio per ogni viaggio. 100 CV. Alimentazione diesel per un'efficienza superiore. Immatricolata a luglio 2018. Con soli 61.601 km certificati. Affidabilità e durata nel tempo assicurate. Il suo colore grigio artense le dona un aspetto elegante e moderno. Ideale per chi cerca stile e praticità. Cambio manuale e trazione anteriore per una guida sicura e reattiva. Perfetta sia in città che in autostrada. Vuoi saperne di più? Visita rattics.com per scoprire tutte le offerte.